Ed è stata una domenica di lutto e di dolore a Castion di Strada dopo la morte di Lorenzo, l'ultimo giorno di stage alla Burimec di Lauzzacco e anche nel ricordo di Federico, deceduto una settimana fa mentre provava la sua moto da Cross. Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto venerdì allo studente del Bearze. Antonio Di Bartolomeo. Dopo i sequestri dei due giorni precedenti è stata una domenica interlocutoria per le indagini sulla morte dello studente Lorenzo Parelli, schiacciato da una trave di 150 kg venerdì pomeriggio nel capannone di Lauzzacco, di proprietà della Burimec, al suo ultimo giorno di formazione in azienda. Attesi in settimana gli esami irripetibili annunciati dalla procura, tra cui l'autopsia. Il primo indagato per omicidio colposo è il titolare della Burimec, Pietro Schneider, ma potrebbero presti unirsi a lui altre figure dell'azienda. Per quanto ancora studente, il 18enne Lorenzo ha tutti gli effetti da considerarsi una vittima sul lavoro, spiegano dall'AMMI l'associazione Mutilati Invalidi Sul Lavoro. Il referente di Udin Luigi Pischiut ha iscritto all'associazione da decenni, ma non ricordo una morte bianca così giovane. Un episodio che ci riporta molto indietro nel tempo. Non mi ricordo di un fatto del genere, no. Che siano state decessi sul lavoro, normale, sì, normale. Ci sono state, ma non a 18 anni. L'incidente ha causato numerose reazioni a livello sindacale e politico. Qualcuno ha messo sotto accusa l'opportunità dell'alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le superiori. Quello che stava svolgendo Lorenzo sotto legida dell'Istituto Bearzi era qualcosa di più. Si tratta del sistema duale nato nel 2018 in Friuli Venezia Giulia, un modello di ispirazione tedesca che coniuga la formazione teorica con quella operativa e avvia molti ragazzi al lavoro. Per Pischiutta non va buttato via. Quel metodo alternanza scuola-lavoro per me è valido. Probabilmente sui risultati di questa ingagine forse ci sarà da fare qualche correzione, qualche aggiornamento, non lo so. Solo teorie non basta. A Morsano di strada i genitori di Lorenzo preferiscono stare lontani dai riflettori in questo momento di dolore. Alla messa domenicale molti occhi lucidi al pensiero di quel ragazzo che sorrideva tanto e a cui piacevano le moto, scomparso dopo 18 anni e due mesi di vita.